Erano poco meno di un centinaio le persone che si sono date appuntamento ieri al cimitero di Ravenna per la commemorazione del gerarca fascista Ettore Muti. La cerimonia si annunciava tranquilla senza episodi di estremismo per il ricordo dell'aviatore segretario del partito fascista e non sono stati necessari interventi della polizia e dei carabinieri che erano comunque presenti in numero consistente. È dal 2000 che organizzo questa giornata. Fino all'anno scorso non era mai successo niente, praticamente 15 anni di tranquillità. Improvvisamente è saltato fuori quest'anno che qualcuno ha voluto mettere i bastoni fra le ruote e cercare di rovinare la giornata con lo scuso di fascismo e compagnie. Noi non abbiamo mai 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 avuto delle noie, anche perché noi siamo gente tranquilla, rispettosi della pace e dell'umiltà e via così. Cerchiamo soltanto di commemorare un morto che è il morto più incredibilmente veramente eroe che noi abbiamo a Ravenna e questa gente qua non voleva farcelo commemorare, soltanto perché era fascista. Loro forse, i genitori di questa gente qua hanno, chissà che cos'erano, probabilmente alla testa del fascino avevano anche loro. La pensano invece diversamente dal Dipartimento Nazionale Antifascismo. Siamo venuti qui oggi perché pensiamo, intanto siamo adesso in questo momento davanti alla tomba di Bullo, di Enrico Boldrini e siamo venuti perché pensiamo che nelle manifestazioni, ricordo di un fascista, di un fucilatore, di uno dei personaggi più squalli del regime fascista che anche quest'anno purtroppo è stata autorizzata, sia veramente una vergogna.